Oggi i prezzi alla vendita dei prodotti agricoli vi è una riduzione media rispetto al 2023 del 10%, ma questa riduzione va anche superiore al 30% o 40% per alcuni prodotti orticoli. Quindi è una situazione di difficoltà perché se da una parte c'è una riduzione del prezzo di vendita dei prodotti agricoli, dall'altra parte c'è un aumento dei costi di produzione. Questo è il quadro critico per l'agricoltura veneta e padovana. I prezzi agricoli, ovvero quelli che ricevono gli agricoltori, sono diminuiti rispetto al 2023, a differenza dei costi di produzione che anzi sono aumentati. Un futuro incerto per un comparto che stava lentamente, tornando attrattivo anche per i giovani. Oggi a livello Veneto siamo intorno alle 63 mila aziende agricole. Se pensiamo che dieci anni fa eravamo 80 mila aziende, i dati sono allarmanti. C'è una riduzione delle aziende agricole, ma evidentemente questa riduzione è frutto anche della meno redditività di queste aziende che possono percepire. L'inflazione ha rallentato i consumi, andando ad incidere sui prezzi pagati agli agricoltori. C'è una riduzione del prezzo di vendita, dato anche dall'inflazione importante che abbiamo avuto negli ultimi anni, che si è attestata quest'anno intorno al 2%. È necessario un intervento della politica. La politica deve intervenire con interventi mirati alle filiere, soprattutto dando la possibilità alle aziende agricole della vendita dei propri prodotti, non al di sotto dei prezzi di costo, perché questo è l'altro aspetto importante. È nella finanziaria in discussione questo, speriamo che in tempo breve si arrivi a questo.